...le regalano la porta, ci siamo. Senta, l'indagine sulla nomina di Romeo è stata archiviata da tribunale. Ha notato come è bella la pelle della Raggi dopo tutti quei mesi di fango? Ha notato come è bella. Ha notato come è bella, ci hanno tirato tanta roba ad osso e un pochino adesso si è seccata sta roba, è stata praticamente una spa per lei stare in casa. Non penso si sia diventita in quest'anno e mezzo. Senta, le sue priorità...